Presidente Di Pino, è il caso di dire buone notizie per i cittadini pescaresi perché la Commissione da lei presieduta ha deciso di prorogare il pagamento di alcuni tributi ma ci sono anche altre novità. Sì, allora già dal mese di marzo quando è iniziata questa fase di emergenza sanitaria l'amministrazione comunale di Pescara si è attivata per dare un sostegno, un'aiuto ai cittadini sia alle imprese che alle famiglie tant'è che già da marzo avevamo previsto il rinvio delle scadenze Tari e COSAP dal 31 di marzo al 31 di maggio e inoltre anche un'esenzione COSAP di due mesi, quindi per il periodo di chiusura sia per le attività costrette e obbligate per legge a chiudere e sia per quelle che avevano autonomamente deciso di sospendere l'attività quindi due mesi di esenzione COSAP decisi dal Comune di Pescara. Adesso con una delibera della scorsa settimana abbiamo ulteriormente rinviato il pagamento della rata Tari che è in scadenza il 31 maggio per le utenze non domestiche, quindi attività di impresa, negozi, professionisti al 31 agosto ed inoltre allo studio la possibilità di prevedere una riduzione delle tariffe Tari, quindi una rimodulazione delle tariffe in base al minor conferimento di queste attività che sono state chiuse e che quindi non hanno potuto svolgere la loro attività. La cosa importante è che abbiamo allargato anche agli studi professionali Pescara è una città di servizi ricca di attività professionali la possibilità con una semplice dichiarazione e autocertificazione di rinviare il pagamento che è previsto per il 31 maggio al 31 agosto. Con la COSAP abbiamo aggiunto ulteriori mesi a quelli già previsti e quindi un'ulteriore esenzione per i pubblici esercizi, tra cui anche gli stabilimenti balneari con l'esenzione del pagamento COSAP dal 1 maggio al 31 ottobre. Potranno decidere o di recuperare, quindi scontare, la COSAP che dovranno pagare successivamente oppure addirittura diamo la possibilità di chiedere un rimborso a queste attività un rimborso della COSAP nel caso in cui questa imposta sia già stata versata al Comune. Ripeto, la cosa veramente importante è che ha lo studio la possibilità di prevedere per la Tari anche l'esenzione parziale sulla base del minor conferimento e anche per le utenze familiari e le utenze domestiche la possibilità di uno sconto, un'esenzione sulla base della situazione reddituale per venire incontro a situazioni particolari di disagio economico. Quindi l'amministrazione comunale di Pescara è accanto a imprese e famiglie, c'è stata e ci sarà.